più che concentrarsi sul trend del momento di cui magari non ce ne frega niente ma pensiamo essere il trend hot del momento è importante secondo come spieghiamo anche lì all'interno del corso capire quali sono le nostre competenze uniche capire quali sono i nostri interessi le nostre conoscenze e passioni uniche e trovare quell'incastro che ci permetta di posizionarci nel mercato come gli unici esperti riferimenti su quella tematica benvenuti a un nuovo episodio di come ho iniziato oggi ho il piacere di ospitare andrea giuliodori benvenuto andrea grazie lorenzo grazie a tutti un saluto a tutti no grazie a te per essere qui sono veramente contento di conoscerti sono sempre da sempre un fan dei tuoi contenuti da almeno dieci anni che ti seguo quindi quindi veramente piacere e un onore averti qua e ne approfitto anche un po per presentarti a chi ci ascolta tanti ti conosceranno però per chi non ti conosce appunto tu sei il creatore di efficacemente che creato credo una quindicina di anni fa ormai 2008 è andato online nell'ottobre del 2008 sì dal 2008 e che è diventato un po il riferimento in italia delle dell'efficacia personale quindi tu in questo blog hai fatto centinaia di articoli hai fatto corsi masterclass ne parleremo sicuramente un episodio centrato sull'efficacia personale sì che poi è diciamo una una branchia che che a 360 gradi racchiude un po di tutto l'efficienza il sonno sì in generale esatto il settore tra virgolette di riferimento è quello della crescita personale che significa un po tutto un po niente però tendenzialmente è una filosofia di stampo americano poi ognuno poi l'adatta come come più preferisce incentrata su quest'idea di poterci migliorare continuamente ecco sì questo è un po quello di cui mi occupo perfetto grazie per la per la definizione giusta e non tutti sanno che però tu inizi come ingegnere nelle marche allora io vorrei partire il racconto un po da lì anche farti così una domanda da da ingegnere ingegnere ora che sei diventato un imprenditore di successo se rivedi a quel quella esperienza di formazione qual è il tuo giudizio e reputi la scuola di ingegneria per la forma mentis che ti adatta per la preparazione che ti adatta poi adatta a qualcuno che vuole fare l'imprenditore o lanciare un suo proprio business ti faccio sorridere mia mia moglie dice che io ero un ingegnere prima di diventarlo e questo in realtà è un qualcosa che riscontro in molti colleghi ingegneri o comunque persone che hanno questo tipo di formazione no che magari nascono con una certa predisposizione alla concretezza la praticità la precisione e così via quindi quello che posso dire è che sicuramente questa predisposizione già c'era in in me infatti ho fatto il liceo scientifico eccetera eccetera però reputo oggi a distanza io mi sono laureato nel 2007 il nostro era il primo anno di sperimentale in cui il 3 più 2 c'era e quindi fondamentalmente facevi la prima triannale esatto facevi i cinque anni perché i professori ancora non erano non si erano abituati quindi facevi cinque anni nei primi tre anni e poi in più facevi anche adesso a parte le battute è stata un'esperienza molto importante è un'esperienza che rifarei anche consapevole che il mio percorso di carriera sarebbe poi magari ha preso questa strada che è diversa da quella tradizionale perché il percorso di la facoltà ingegneria mi ha dato degli strumenti delle metodologie dei modi di pensare dei modi di analizzare i problemi di affrontare i problemi che mi ritrovo ancora oggi e che trovo fondamentali e quello che mi fa a volte un po' sorridere perché gran parte delle persone poi che trattano queste tematiche hanno una formazione completamente diversa hanno una formazione filosofia psicologia monistica sì sì le cosiddette scienze sociali con scienze tra virgolette e credo che l'avere un'impostazione più pragmatica più concreta appunto di stampo ingegneristico mi abbia aiutato a differenziarmi in questo in questo ambito quindi sì sono grato di quel percorso e poi soprattutto credo che ti abbia dato comunque una metodologia ottima per studiare perché qui si potrebbero aprire dibattiti ma c'è chi magari dice ma l'università impari cose che poi non applichi diciamo al mondo del lavoro che sicuramente o imparzialmente è vero però quello secondo me che di cui non si può molto dibattere o che è una certezza è che la scuola di ingegneria ti insegna a studiare ecco io credo che tu poi nella tua attività abbia studiato tanto assimilato tante informazioni sì sì continuo a studiare continuo a farlo con grande passione e lo faccio sicuramente con molti dei metodi che ho preso durante il percorso universitario metodi che tra l'altro ho anche condiviso sono stati alcuni dei primi contenuti che ho condiviso all'interno di efficacemente ultimamente lo faccio molto meno perché naturalmente i miei interessi sono sono cambiati però sì anche perché l'università in generale quello che ti insegna l'università intesa comunque il percorso scolastico tipico serve a dimostrare ad un futuro datore del lavoro che questa persona è una di quelle persone che si è svegliata ad una certa ora per presentarsi alle lezioni è una persona che è stata in grado di prepararsi per superare degli esami è una persona che ha studiato eccetera quello poi certi concetti naturalmente a me sono rimasti penso a concetti di fisica di matematica altri naturalmente o erano già superati sono stati superati negli anni o sono stati meno utili certo è forse anche quello che ti lascia un po' di consapevolezza delle proprie capacità nel senso che passi uno scolastico sicuramente che tu avrai in mente alcuni esami diciamo storici che tu nel giorno in cui lo passi cioè quello te lo ricordi tutta la vita ed è magari nei momenti di difficoltà a me ancora capita dico ma se io ho passato quell'esame lì posso riuscire anche a passare questo meeting o questa presentazione in azienda mi hai fatto ripensare che io per cinque anni dopo essermi laureato ho avuto gli incubi ogni tanto adesso sto scherzando però e poi ho scoperto che è un qualcosa che capita a moltissimi studenti ovvero mi capitava di sognare di non essermi ancora laureato e questo è successo per cinque anni interessante sì sì per cinque anni dopo la laurea cioè a un certo punto ti svegli un po' così un po' rincoglionito e dici ma no cavoli devo ancora preparare tutto il sogno ah no no sono laureato no ok va tutto bene va tutto bene e sì quindi mi è successo e da lì io ho spulciato il tuo linkedin ho visto che hai fatto una carriera anche insomma di vari anni fino a ruoli manageriali in pwc quindi consultoria e consulenza è stato il tuo primo lavoro eri uno di quegli studenti comunque ambiziosi che hanno scelto consulenza perché era un po' l'autostrada un po' per il successo per la carriera o come è stata la scelta ma allora io ricordo che il terzo o il quarto anno di università erano venuti questi consulenti a fare la classica presentazione in facoltà e mi aveva molto affascinato quel tipo di carriera quindi ho puntato quasi da subito ad entrare a diventare consulente di direzione in realtà ho avuto questo ancora prima di laurearmi ho iniziato a lavorare all'interno dell'università come ricercatore e poi ho vinto un concorso pubblico sempre all'interno dell'università anzi due concorsi un assegno di ricerca e un concorso pubblico per entrare nell'area amministrativa dell'università però a me questa cosa e la consulenza mi era rimasta questa voglia, questa ambizione di crescere nella consulenza quindi tutto il mondo manageriale così mi attirava molto anche le immagini forse che ti lasciano se si presenta il giacca esatto, i pinguini poi ti passa poi ti passa quando lo fai per 4-5 anni però all'inizio ti colpisce molto soprattutto se hai 22-23 anni e quindi avevo vinto questo assegno di ricerca e questo concorso stavo lavorando già all'interno dell'università ancora prima di laurearmi però all'epoca ho iniziato a fare una serie di colloqui la PWC era quella che mi aveva affascinato maggiormente e avevo ricevuto quindi un paio di offerte ho accettato quella di PWC come stagista il che immaginati il trauma per mio padre che classe del 41 io nonostante abbia vinto un concorso pubblico il posto fisso ho deciso di abbandonare tutto di rinunciare per uno stage a Milano comprensibile scontri generazionali esatto, esatto, esatto poi in realtà sono entrato sono diventato dipendente quindi un contratto a tempo determinato indeterminato già dopo sei mesi e questo siamo a cavallo del 2008 prima che esplodesse la crisi qualche mese prima quindi mi è andata di fortuna e poi ho fatto tutto il mio percorso di carriera all'interno della PWC diventando manager a meno di 30 anni quindi è stata una bella soddisfazione una bella carriera un bel percorso e mi ha dato tanto e quindi questi sono gli anni in cui anche inizi di notte o nei weekend a buttare giù qualche riga e a scrivere i primi articoli diciamo il draft la bozza di quello che poi diventa efficacemente posso chiederti fin da subito o ti è venuto dopo un paio di anni che eri dentro la consulenza come hai iniziato? Allora come ti accennavo io sono entrato come stagista in PWC a Milano nel novembre del 2007 ho fatto i miei sei mesi di stagio sono diventato a tempo indeterminato nel maggio del 2008 e il blog l'ho aperto nell'ottobre del 2008 quindi proprio il primo anno esatto dopo un anno e tu direi ma già eri stato traumatizzato dopo un anno già eri stanco mettiamola così dopo un anno di quel tipo è una carriera molto intensa quella del consulente ritmi di lavoro molto serrati 12-14 ore di lavoro al giorno spesso anche nei weekend quello che sentivo un'esigenza molto forte di avere qualcosa di mio da coltivare che andasse al di fuori del lavoro quindi questa passione poi la passione per internet e le tecnologie l'ho sempre avuta dall'altra parte c'era questa passione per la crescita personale il miglioramento personale ho fatto ho messo le due cose insieme e lì è nato efficacemente senza però nessuna ambizione imprenditoriale o di chissà quali guadagni era un hobby il mio giardino zen che volevo curare al di fuori del lavoro ok quindi tu segui probabilmente altri blog americani di crescita personale e da lì ti è venuta l'idea ora faccio anch'io il mio blog ma sì tendenzialmente io all'epoca seguivo con particolare attenzione questi due blogger blogger americani che erano Leo Babauta di Zen2Done e Steve Pavlina di stevepavlina.com e mi appassionavano perché li trovavo estremamente interessanti estremamente concreti e pratici a differenza dei vari guru di crescita personale ti davano proprio delle strategie dei consigli pratici per applicare questa crescita personale perché sennò questa crescita personale significava tutto e poi non significava nulla e questo approccio mi era molto piaciuto al che visto che ero appassionato di queste tematiche fin dai 18 anni quindi dal 2000 ho detto ma senti ma qualcosina la posso dire anch'io sì vabbè ho 26 anni sono un po' giovane però qualcosina la posso dire anch'io perché ho testi un po' di sindrome dell'impostore certo all'inizio c'è sempre vale per tutti però sentivo di poter di poter raccontare la crescita personale a modo mio anche perché in Italia all'epoca non c'erano quei blog dei blog di crescita personale che avessero quell'approccio c'erano naturalmente dei formatori anche molto conosciuti però formatori che dal palco con i balletti e le pagliette ti facevano i weekend motivazionali a me quel tipo di crescita personale non mi faceva impazzire preferivo quella crescita personale che ognuno di noi può portare avanti giorno dopo giorno all'alba concentrandosi su determinate abitudini e applicando determinate strategie pratiche quindi ho deciso di raccontare un po' la crescita personale a modo mio con questo taglio pratico concreto senza fuffa e condividendo quel 20% di strategie di questo mondo che a mio avviso funzionano davvero perché poi diciamocelo l'80% è appunto fuffa o comunque sono cose un po' campate per aria no e tra l'altro a me piace molto sempre il taglio appunto che ci hai dato personale ma anche credo che forse lo spieghi nel libro come guadagnare il tempo come gestire il tempo come riconquista il tuo tempo che dice appunto il posizionamento che hai avuto è del tipo non è che sono il maestro Yoda e ti do gli insegnamenti ti racconto il mio viaggio su questa mia ricerca sì della crescita personale secondo me è un tipo di di posizionamento intanto che avvicina molto al lettore e che appassiona quello è stato diciamo la soluzione che ho trovato per me stesso e con i miei lettori per superare questa sindrome dell'impostore quindi quello che mi son detto ok hai 26 anni non sei nessuno non ti conosce nessuno non è che puoi star lì a fare il maestro il guru non mi sembra il caso però puoi puoi condividere il percorso che stai facendo puoi condividere puoi raccontare quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato nella tua vita questo non te lo vieta nessuno quindi questo mi è stato molto di aiuto questo approccio e ha funzionato eh io lo dico no lo dico anche Mari per chi ci ascolta perché secondo me il posizionamento io quando l'ho letto mi ha aiutato molto anche a me iniziare in questa iniziativa del podcast perché per quanto esperienza uno possa avere o meno comunque inizi un'attività che non hai mai fatto ti scontri con magari altre realtà le guardie altri prodotti che funzionano quindi dici ma io chi sono per fare una cosa del genere e ti aiuta molto psicologicamente dire beh ma io mi vado a presentare come uno che ha voglia di fare questa cosa che ha voglia di imparare e se hai voglia seguimi e seguimi nel mio viaggio e sono qui per imparare dammi feedback e secondo me può sbloccare molte persone che sono lì vorrebbero iniziare con qualcosa perché tutti hanno una passione per cui di cui vorrebbero raccontare diciamo al mondo e che spesso hai questo tipo di blocco mentale quindi è diciamo un po' un'esortazione che faccio a chi ci ascolta a iniziare e a fare questo tipo di posizionamento ti toglie un po' di pressione quando tu hai iniziato a avere un po' di seguito ecco com'è che ti sei pubblicizzato come funzionava in quegli anni con un blog è stata una crescita organica hai usato ads no le ads all'epoca non c'erano cioè era un forse facebook ancora non l'aveva introdotto come prodotto anche perché facebook era nato da appena 4 anni e c'era qualcosina google adsense che erano il sistema che utilizzavo per monetizzare non per pubblicizzarmi per farmi conoscere tendenzialmente all'epoca l'approccio migliore era utilizzare appunto la seo quindi scrivere degli articoli che poi venivano cercati all'interno di google si posizionavano diciamo su determinate keyword su determinate parole e tu venivi trovato grazie a questi articoli quindi scrivere scrivere un sacco di e tu facevi ricerche per vedere per esempio quali erano i trend allora all'inizio no perché non ne sapevo nulla di queste cose scrivevo semplicemente gli argomenti che adoravo di cui mi piaceva parlare poi pian piano naturalmente quando ho iniziato a portare avanti anche un approfondimento per quello che per quanto riguarda il marketing digitale quindi c'è stata una crescita in parallelo sia di tutti gli approfondimenti legati all'ambito che divulgavo quindi la crescita personale sia tutta una serie di studi approfondimenti test corsi su quello che era il marketing digitale perché poi ho questa doppia doppia faccia come imprenditore da una parte sono l'esperto di crescita personale dall'altra però sono l'esperto anche di marketing digitale avendo creato in Italia le realtà online più grandi anche se non conosciutissima e quindi sì sicuramente poi c'è stato tutto un lavoro di analisi di ricerca di approfondimento e questo ha aiutato poi all'epoca c'erano questi non mi ricordo il nome però erano della sorte di directory in cui tu mettevi i tuoi articoli e le persone votavano potevano o mettere un voto up o un voto down adesso non mi ricordo veramente come si chiamassero queste directory però anche lì ho avuto la possibilità di farmi conoscere un pochettino però principalmente google quindi motori ricerca ok e google hai menzionato google adsense per monetizzare puoi spiegare cos'è cos'era sì ma sì considera che google stessa guadagna l'ottanta per cento del suo fatturato lo fa ancora con queste pubblicità allora adesso molte persone queste pubblicità le vedono sui video di youtube quindi le pubblicità che interrompono i video di youtube sono le pubblicità contestuali di google all'epoca e poi le vediamo anche in qualsiasi altro sito che oggi navighiamo ci sono queste pubblicità all'interno dei testi che sono contestuali rispetto alle tematiche trattate in questi blog e quindi una parte la guadagna google una parte la guadagna l'editore o comunque il blogger che pubblica all'epoca era uno dei principali sistemi di monetizzazione ok ma a livello perché tu mettevi un codice dentro dentro il tuo blog e in automatico google generava questi questi link testuali di pubblicità o anche delle immagini che erano coerenti con l'argomento trattato all'interno dell'articolo quindi le persone cercavano un determinato argomento sul motore ricerca cliccavano sull'articolo leggevano il tuo articolo in più si vedevano mostrate delle pubblicità che erano in qualche modo coerenti con quella tematica chiarissimo chiarissimo quindi 2008 è iniziato so che hai lasciato mi pare 15 2015 2016 diciamo a metà via immagino che il blog cominciasse già a avere se hai letto una crescita organica dei buoni risultati come gestivi lì un po' il tempo perché conosco la consulenza insomma ho amici di che fanno la consulenza a Milano so quante ore lavorano mi piacerebbe così se puoi fare un paio di esempi cioè lavoravi a weekend lavoravi la mattina presto lavoravi la notte come facevi a gestire il blog un blog di successo facendo il blog certo allora all'epoca devo dire che era più semplice perché non c'erano 10.000 canali social quindi non c'erano 10.000 social diversi semplicemente il mio lavoro all'epoca era scrivere questi articoli ok quindi scrivevo questi articoli io generalmente lo facevo al mattino presto quindi un'oretta mi ritagliavo un'oretta prima di andare al lavoro e nel weekend quindi più o meno una decina di ore a settimana le dedicavo fai anche fai anche 15 le dedicavo al blog e quindi scrittura degli articoli ricerca scrittura degli articoli risposte ai commenti perché c'era molta interazione all'interno dei siti e non sui social all'epoca e questa era la mia attività era come spendevo queste ore poi c'era tutta la parte di studio analisi legata appunto e facevi diciamo tutto tu nei primi anni sì sì io sono stato un one man show per diversi anni almeno per 3-4 anni il primo collaboratore che ho avuto è stato uno sviluppatore che è ancora con noi è bravissimo che mi ha aiutato in tutta la parte su tutta la parte tecnica perché man mano che il blog è cresciuto anche da un punto di vista di traffico ho avuto bisogno di soluzioni ad hoc dedicate per il sito oggi considera che è un sito che fa 6 milioni visitatori all'anno quindi server dedicato tutta una serie anche di soluzioni tecniche necessarie però all'epoca in realtà non era così difficile e oggi è ancora più facile compravi il dominio c'era il famoso wordpress e impostavi il tutto insomma con qualche click poi ripeto ero abbastanza smannettone quindi queste cose mi divertivano sì ti piaceva imparare e quando è stato il momento in cui hai cominciato a pensare alla transizione quindi dal tuo posto di lavoro stressante però d'altra parte è anche gratificante sicuro e più convenzionale e più socialmente accettato rispetto a avere questo lavoro digitale che magari ti dava due volte cinque volte dieci volte non lo so al mese però immagino poi in quegli anni era ancora più folle tra virgolette parlarne sei stato un pioniere in questo come è stata la transizione anche psicologica certo soprattutto è stata psicologica la transizione allora giusto per spiegare brevemente qual è stata la crescita tra il 2008 e il 2012 c'è stata una crescita pressoché organica quindi io scrivevo questi articoli ed ero focalizzato esclusivamente nel dare valore 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 ai miei lettori senza particolari obiettivi di fatturato o altro l'unica monetizzazione che avevo era appunto questa pubblicità di google che era arrivata a generare in media stiamo parlando del 2011 fine 2010 fine 2011 generava 1000 euro al mese e io ero contentissimo perché io scrivo i miei articoli su tematiche che mi piacevano buttali via 1000 euro al mese scrivo i miei articoli sulle tematiche che adoravo e in più con questa pubblicità tutto automatizzato tutto automatizzato avevo questi 1000 euro in più al mese che andavano ad arricchire il mio stipendio da consulente ed ero super contento di questa entrata secondaria di questo mio hobby perché all'epoca per me era un hobby poi nel naturalmente crescendo come traffico ero entrato anche in contatto con altri blogger quindi c'era anche un confronto di opinioni di scambi di idee e così via e uno di questi che poi è stato una delle persone con cui ho creato il mastermind quindi Marco nello specifico poi l'altra persona era Dario Vignali e questa persona Marco mi dice vabbè ma tu non puoi utilizzare semplicemente la pubblicità per monetizzare devi creare un infoprodotto devi creare un manuale digitale loro che erano esperti dei funnel ma all'epoca ancora non c'erano i funnel però c'erano questa cosa degli infoprodotti dei pdf e così via ma no io questa cosa non mi voglio vendere poi chissà come la prendono i miei lettori di qua di là ero molto ingenuo e fatto sta che gennaio del 2012 inizia a scrivere no in realtà l'avevo iniziato già nell'ottobre novembre del 2011 inizia a scrivere questo manuale sulla procrastinazione che era una tematica che mi interessava molto che avevo approfondito molto e su cui avevo trovato molte strategie per superare quindi come smettere di rimandare inizia a scrivere questo manuale lo pubblico nel gennaio del 2012 e al lancio che poi non è che avessi delle strategie di marketing particolarmente volute semplicemente ho messo un link all'interno di uno degli articoli e in un'email e al lancio ricordo di aver venduto 10.000 euro di questo manuale da 19 euro e quindi lì c'è stato un cambio proprio di mentalità ho capito che non era semplicemente un hobby ma era un'opportunità importante se fatta sviluppare perché dopo questo lancio iniziale in realtà le vendite di questo manuale hanno continuato e tuttora dopo dopo esattamente 11 anni start continua a generare quei 2-3.000 euro al mese di vendite e quindi quello lì ho capito che insomma c'era stato un cambio di passo sempre quell'anno ho lanciato un secondo manuale e a quel punto il blog ha iniziato a generare una media di 10.000 euro al mese che era nettamente superiore naturalmente allo stipendio netto che avevo come manager come dipendente lì ho iniziato a pensare ah però interessante magari magari semplicemente è stata una botta di fortuna quindi essendo molto prudente essendo molto ponderato non è che ho detto ah basta lascio il lavoro ciao no ho continuato a focalizzarmi sul mio lavoro però intanto era diventata un'attività che non mi portava via più tempo perché io continuavo a scrivere i miei articoli però adesso c'era un guadagno importante quindi tra pubblicità e manuale 10-12.000 euro al mese insomma ho fatto una domanda per curiosità quando hai cominciato a vendere del prodotto eri comunque cominciavi a essere conosciuto nell'ambiente del lavoro cioè sapevano di questa tua passione era accettata c'erano commenti allora non ne parlavo non particolarmente qualche collega qualcuno lo sapeva se mi chiedevano delle cose naturalmente lo dicevo avevo tra l'altro dovuto fare una comunicazione interna perché avevo dovuto aprire una partita IVA visto queste entrate quindi c'era stata una comunicazione interna in cui spiegavo di questa attività ed era stata accettata così però tendenzialmente o non interessava questa cosa o c'erano addirittura delle prese in giro quindi tu sei il guru di qua di là e io zitto zitto lo aspettavo esatto però continuavo continuavo a fare il mio quindi 2012 c'era stato questo salto di qualità 2013 e 2014 ho continuato il mio lavoro e nel frattempo ero lì che guardavo ok ma come andiamo questo blog continua o è stata semplicemente una fiammata il fatturato in realtà il traffico il fatturato ha continuato a crescere sia nel 2013 sia nel 2014 e anche in maniera importante al che nel 2014 sono andato dal mio capo chiedendogli se erano disponibili a darmi un anno sabbatico quindi un anno in cui semplicemente non lavoravo e l'avrei investito completamente nello sviluppare il blog e lo hanno accettato anche perché se non lo avessero accettato me ne sarei semplicemente andato e quindi ho fatto questo anno sabbatico il blog è continuato a crescere e alla fine nel 2015 alla fine dell'anno sabbatico sono partito per Londra quindi proprio super prudente super ingegnere sì sì in generale questa cosa mi è rimasta molto inculcata mi è rimasta molto dentro cioè inutile far cazzate se hai questa opzione che ha tutti i pro e nessun contro come l'anno sabbatico sfruttala ma le che va non te lo danno esatto ed è anche un bel messaggio comunque una bella storia quello del siccome alla fine la maggior parte delle persone lavorano per un'azienda e magari possono farsi questo tipo di problema cioè in realtà si può fare tipicamente bisogna comunicarlo all'azienda se apri la partita IVA ovviamente devi guardare il contratto non devi parlare non devi avere interferenze non devi parlare però se è di un altro argomento come può essere la crescita personale un podcast o il tuo blog sullo yoga cioè si può fare senza problemi sì poi naturalmente devo dire che io avevo dei capi dei manager dei colleghi che erano super in gamba con cui avevo un ottimo rapporto quindi al di là delle prese in giro che poi erano veramente canzonatorie nulla nulla di che mi sono cioè non è stato un problema ecco esatto e poi si respira impresa in una consulenza si respira soldi si respira generare profitto quindi sarei molto sorpreso se qualcuno cioè quando siete sei andati lì anche a camare i numeri in mano che avevi di efficacemente credo che la gente possa averti solo stretta la mano il mio capo nonché mentore presidente di PwC questa cosa l'apprezzava cioè bravo di qua di là altri invece che avevano un approccio un po' meno imprenditoriale questa cosa la capivano meno però alla fine l'accoglienza è stata positiva e come è stato il tuo quindi sei andato hai ottenuto questo anno sabbatico tra l'altro l'hai chiesto molto a cuore leggero perché come dire eri la parte forte dicendo così o così vado lo stesso questa è un'altra lezione importante quando si deve andare a contrattare presentarsi insomma col coltello alla parte del manico esatto e anche sapere sempre fino a dove puoi spingere quindi tu entri in una negoziazione sapendo che questo è l'output che voglio e lo ottengo diciamo non mi comprometto come sono state le prime settimane i primi mesi di non svegliarsi nel mattino di non mettersi di essere di avercela fatta di essere riuscito ad uscire dalla ruota del criceto era enorme grandissima soddisfazione ero proprio orgoglioso di me stesso per essere riuscito a creare dal nulla questa realtà che generava naturalmente poi non vorrei che passasse il messaggio di un certo attaccamento ai soldi per me i soldi i risultati economici efficacemente hanno sempre rappresentato la cifra del valore che riuscivo a dare alle altre persone e quindi c'era proprio una soddisfazione un orgoglio legato a questi risultati in generale alla crescita di questo progetto anche quanto questo progetto stesse aiutando e tuttora tutt'oggi continuare ad aiutare milioni di persone centinaia e migliaia di persone raggiungendo milioni di persone però i primi mesi sono stati i primi sei mesi sono stati un disastro perché nel momento in cui tu non hai più dei limiti quello che succede quando sei di fronte a questo foglio bianco a questa totale libertà io mi sono perso fortunatamente questo progetto funzionava molto bene e quindi quelle poche quelle poche routine che mi ero creato dello scrivere almeno un maledetto articolo ogni ogni lunedì quella quell'abitudine è rimasta forte ho continuato a farla perché se avessi perso anche quella avrei probabilmente messo in pericolo il progetto stesso però per il resto mi sono perso perché avendo tutto questo tempo libero ho pensato no adesso devo far questo devo far questo cioè ho ipercomplicato le cose e quell'ipercomplicazione in realtà poi non era legata ad un miglioramento dei risultati quindi paradossalmente quando avevo 10 ore 15 ore per lavorarci a settimana ero molto focalizzato molto efficace molto efficiente nel momento in cui mi sono trovato queste 40 ore a questo tempo pieno a dedicare a questa attività ho iniziato a fare tutta una serie di cose che a posteriori ho poi realizzato erano inutili quindi quei sei mesi mi sono perso non riuscivo neanche ad applicare le mie di strategie dopo che dopo passati questi sei mesi mi sono detto ok Andre tra sei mesi finisce l'anno sabbatico che vogliamo fare qua? cioè vogliamo sfruttarlo a questa occasione che è una delle poche occasioni che hai nella vita oppure li vogliamo buttare nel cesso anche i prossimi sei mesi e quindi lì poi ho iniziato a ragionare come un imprenditore ero da solo ancora a parte questo collaboratore esterno però lì ho iniziato a ragionare veramente come un imprenditore e quello è stato il momento in cui efficacemente da hobby da passione da piccolo diciamo svago che portava delle entrate è diventata nella mia testa almeno un'azienda ma è molto interessante grazie di aver condiviso perché cioè se penso ingegnere consulente quindi testa sulle spalle sveglio abituato a gestire progetti millemilionari si trova a gestire tra l'altro di successo vai in sabbatico perché è un reddito passivo gli va tutto bene e un po' si perde e hai detto hai detto bene no? che quando avevi meno tempo e che quando uno ha poco tempo automaticamente applica paretto no? perché esatto cioè non hai scelta invece estendi diciamo la disponibilità di tempo è più difficile organizzarsi ma quando ti hai detto che tra l'altro sì è un consiglio che io do a tutte le persone che dicono io ho questo progetto però non riesco a lavorarci devo lasciare il lavoro no aspetta calmo se non riesci a lavorarci adesso non è che poi quando avrai tutta la totalità del tempo ci lavorerai magicamente meglio cerchi di capire come farlo funzionare adesso col minimo di ore che riesci ad investirci almeno un MVP un minimal viable product e una volta che sei riuscito a capire se c'è interesse che funziona allora sì lì fa il salto di qualità molla il lavoro e scala il progetto però molte persone questa cosa non la capiscono e dicono no 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 io devo lasciare il lavoro altrimenti non ce la faccio certo ma è una scusa un po' interna in realtà come dici tu tra l'altro tutti possono se hanno un lavoro da dipendente con dei sacrifici ritagliarsi 15-20 ore a settimana sì cioè dicendo tanti no e 20 ore a settimana è un part time cioè se tu ti metti a lavorare 20 ore a settimana su un progetto da qui a tre mesi da qui a quattro mesi hai realizzato abbastanza cioè altro che MVP nei fatti tre quattro di MVP quindi è una questione di scelta per me per esempio che anch'io ho procrastinato molto l'idea di iniziare qualcosa perché perché lavora in multinazionale ma non ho tempo eccetera quello che mi ha fatto la differenza è cominciare a dire di no cioè ho cominciato a dire di no in modo capito senza pensare tipo dico di no a tutto ok e lì ti sei ti sono creato un po' di tempo libero e da lì cominciate a vedere gli studi le idee i piccoli progettini ecco quindi questo è un po' ti posso guardare la mia piccola esperienza aggiungo anche questa cosa devo dire che esser partito nel 2008 è stata anche una fortuna perché all'epoca non c'erano così tante distrazioni digitali come ci sono adesso eh oggi eh io oltre a parlarne di queste cose ne parlo anche perché lo vivo lo vivo proprio sulla mia pelle dal momento in cui ho acquistato il mio primo smartphone stiamo parlando di 2009 2010 ma soprattutto quando poi sono sbarcate sullo smartphone le app dei social mi rendo conto che ho questa impressione che il tempo si sia ristretto però andando a vedere quello che è lo screen time l'utilizzo dello smartphone eh realizzo che non è che si sia ristretto il tempo che ne sprechiamo tantissimo perché siamo continuamente abbiamo questa attenzione continuamente frammentata e lì serve mi rendo conto che oggi serve molta più disciplina per ritagliarsi quel tempo le persone sono stanche sono frustrate eh è vero che c'è lo stress è vero che magari c'è chi ha famiglia ha figli però c'è questo elemento di distrazione digitale che secondo me oggi succhia energie emotive e tempo a tantissime persone assolutamente ne parli tra l'altro molto nel libro eh hai fatto un TEDx anche se non se ne ricordo si 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 su questa domanda su questo proprio protezione digitale è un invito che faccio intanto lo guardo il tempo che passo sullo screen ed è veramente sempre demotivante perché è 3-4 ore al giorno ma tranquillamente si e sono qui perché ci dedichi 10 minuti là 10 minuti qua non te ne accorgi però poi si accumulano serve molta intenzionalità per dedicarsi ad attività che comunque sono faticose che tendiamo a procrastinare che però danno dei frutti nel lungo termine esatto non solo anche un tema non è solo per il tempo è anche il fatto della parte della serotonina che sei sempre stimolato ma anche nel discorso di focus appena ti annoio appena devi affrontare qualcosa di difficile guarda un attimo Instagram per dammi quel busto di questo bellissimo questo bellissimo libro che consiglio a tutti gli ascoltatori si chiama l'era della dopamina di di questa ricercatrice americana la Lemke Anna Lemke adesso non ricordo il nome il cognome è sicuramente Lemke è molto interessante perché lei è un'esperta di dipendenze però parla naturalmente anche di come si siano sviluppate queste nuove dipendenze anche proprio a livello neurobiologico che cosa succede nella nostra mente quando abbiamo questo tipo di dipendenze molto interessante vorrei passare credo che sia il tuo ultimo corso che hai lanciato proprio con Dario Vignali che è The Expert Journey se vuoi se vuoi raccontare esattamente cosa fate e qual è la potenzialità secondo te a giorno d'oggi di un'attività digitale sì ma allora ci tengo a precisare un paio di aspetti come dicevamo anche nella prima metà di questa intervista di fatto io ho questo doppio ruolo nella mia vita da una parte naturalmente c'è la crescita personale che è la mia grande passione è quello di cui parlo all'interno di Efficacemente e all'interno di Efficacemente abbiamo dei corsi dedicati anche a queste tematiche come ad esempio 3,6,5 un anno epico crea tempo adesso abbiamo la membership più efficace e così via questo è tutto il progetto legato alla crescita personale però come detto naturalmente negli anni ho dovuto sviluppare ho voluto sviluppare tutta una serie di competenze nell'ambito proprio del marketing digitale questo è il motivo per cui con Dario Vignali mio amico e founder di Marketers abbiamo deciso di realizzare questo progetto che si chiama The Expert Journey che è un brand separato rispetto a Efficacemente ed è dedicato proprio a tutti quegli esperti professionisti liberi professionisti o comunque appassionati di determinate tematiche che intendano in qualche modo lanciare un proprio progetto online quindi abbiamo condiviso all'interno di questo videocorso tutte quelle che sono state le nostre realizzazioni le nostre strategie le pratiche che funzionano oggi nel 2023 per lanciare un proprio un proprio business online una propria attività online lavorando sia a livello di mindset ma anche a livello proprio molto pratico tecnico nelle attività proprio da fare per crescere online oggi perché ci sono sicuramente dei principi fondamentali che non cambiano nel corso del tempo ma ci sono anche delle strategie che bisogna applicare adesso che magari tra due anni non funzionano certo e chi meglio tra l'altro di te e di Dario insomma Dario Vignali se non lo conoscete andate a vedere chi è andate a vedere il suo canale podcast marketer sono comunità molto forte come aiutate le persone tra l'altro sono nella lista di attese perché sono entrato io ho fatto vari corsi ho fatto 365 alcuni anni fa che è un corso molto interessante che fa Andrea che manda giornalmente una mail ti aiuta un po' a creare la routine ti aiuta in tante cose mi è piaciuto molto quel tipo di corso in questo ho visto che appunto c'è la lista d'attesa immagino che sia non so più personalizzato che aiuti però avrei sapere un po' come funziona nel dettaglio per chi entra allora in questo per quanto riguarda The Expert Journey è un videocorso tra l'altro è uno dei videocorsi più approfonditi e lunghi che abbiamo realizzato perché io e Dario ci siamo chiusi in questa casa in montagna abbiamo affittato questa bellissima casa in montagna ci siamo chiusi lì per due settimane adesso non ricordo esattamente quando quanto però un annetto fa ci siamo chiusi lì abbiamo detto adesso parliamo condividiamo tutto quello che sappiamo sulla creazione di attività digitali quindi sono più di 18 ore di registrazione in cui ci sono queste sorte di chiacchierate due con me e Dario che sono molto belle perché c'è un confronto proprio molto approfondito in cui a volte faccio io l'avvocato del diavolo con Dario a volte lui andiamo molto in profondità e ci sono cose che io non ho mai sentito dire in altri ambiti e in più poi ci sono delle lezioni di approfondimento vero e proprio ottenute da me ottenuto da Dario quindi con lavagna dove andiamo proprio molto sul tecnico diamo delle indicazioni molto pratiche su come creare avviare e lanciare la propria attività online come crescere online oggi quindi è questo un videocorso con si tratta di 12 settimane in queste 12 settimane la promessa che facciamo è da partire da zero e riuscire ad avere i propri primi mille iscritti alla propria lista e naturalmente anche una presenza social è importante molto interessante e affrontate anche diciamo quali sono i business o i trend che si potrebbero cavalcare in questo momento quello diciamo deve venire e quali sono le tue riflessioni quali sono dei buoni business al momento questa è una è una tematica che trattiamo ovvero quanto sia importante evitare di cavalcare il business del momento perché è un approccio sbagliato a nostro avviso ad esempio nel momento in cui noi ci rendiamo conto che quello è il trend del momento è già tardi per esempio nel momento in cui c'è stato il picco delle bitcoin criptovalute web 3 c'era chi si lanciava in queste tematiche ed era già tardi perché quello era il picco adesso c'è il momento delle intelligenze artificiali intendiamoci le intelligenze artificiali avranno un impatto importantissimo sulla nostra vita ma le persone che ti lanciano il corso su come utilizzare chat gpt probabilmente spariranno invece a breve perché quello lì cambia evolve continuamente quindi più che concentrarsi sul trend del momento di cui magari non ce ne frega niente ma pensiamo essere il trend hot del momento caldo del momento è importante come spieghiamo anche lì all'interno del corso capire quali sono le nostre competenze uniche capire quali sono i nostri interessi unici le nostre conoscenze e passioni uniche e trovare quell'incastro che ci permetta di posizionarci nel mercato come gli unici esperti riferimenti su quella tematica può essere una tematica anche relativamente di nicchia però se ci posizioniamo come riferimenti di quella nicchia e questo è il bello di internet ti dà la possibilità di raggiungere anche su tematiche molto particolari decine se non centinaia e migliaia di persone quindi non la rincorsa al business del momento perché tra l'altro sono sovrappopolati quei settori quindi c'è tanta competizione c'è tanta fuffa piuttosto distinguersi parlando di tematiche che magari sono tematiche anche che sono sempre valide ok lo sviluppo dell'intelligenza artificiale ok lo sviluppo della blockchain però le persone hanno bisogno di smettere di procrastinare hanno bisogno di imparare a gestire il proprio tempo quindi la crescita personale per me era una passione che mi portavo dietro a tantissimo tempo ed è una tematica che anche tra 100 anni sono sicuro sarà per le persone continuare a investire sul proprio benessere mentale emotivo e fisico certo ci sono delle tematiche che sicuramente sono più più eterne più durature quindi sono anche un'opportunità per chi deve crearsi del business intorno però ripeto è molto importante piuttosto che rincorrere le mode rincorrere le cose che ci accendono perché una cosa che molte persone non capiscono è che questo tipo di attività se fatta bene naturalmente con una certa dose di fortuna può darci un'enorme soddisfazione però ci sarà sempre un deserto un periodo in cui avremo zero riscontri che può durare anche due anni in cui dobbiamo lavorare come dei matti però non ci filerà nessuno non avremo un pubblico non avremo follower non avremo fan e se tu non sei appassionato di quella tematica ma semplicemente rincorri dal modo del momento dopo tre mesi molli e se molli dopo tre mesi hai perso tre mesi di tempo sì c'è del navale in questo mi ricorda un po' il messaggio per chi ci ascolta navale è un imprenditore di origine indiana ma negli Stati Uniti per me è uno dei personaggi più pazzeschi dell'internet c'è l'almanacco molto bello c'è uno degli episodi lo sai che l'ho portato io in Italia l'almanacco in navale no come l'hai portato in che senso praticamente tradotto no praticamente io sono direttore di questa collana che si chiama Roy Edizioni mi hanno naturalmente non è una mia proprietà però i proprietari questo editore mi ha detto vorresti curare una collana dedicata all'efficacia alla crescita personale in generale consigliarci libri che più ti piacciono in modo tale che noi li prendiamo li traduciamo e poi li proponiamo sul mercato italiano quindi ad esempio Deep Work Lavoro Profondo Ical Newport l'almanacco in navale Ravikant minimalismo digitale sono tutti libri che ho selezionato personalmente sono dentro questa collana e quindi ho contribuito a portarli in Italia beh veramente complimenti una perla in più ma io ora cioè naval merita quindi andatevi a vedere l'almanacco perché è uno di quei personaggi anche se sei appassionato anche io sono appassionato da sempre di crescita personale quindi mari leggi tanti libri concetti dei visti rivisti d'angolature diverse ma un po' insomma si ripetono come naval è uno di quei personaggi che invece su due ore di podcast con Joe Rogan o con Tim Ferriss ti tira fuori tipo cento cose che non avevi mai sentito prima e dici ma da che pianeta viene questo esatto concordo quindi veramente complimenti io ti ringrazio ancora veramente è stato un sacco un piacere per chi ci ascolta vorrei ricordare appunto di seguire come ho iniziato questo podcast su Spotify datele le 5 stelle se vi piace ho anche canali su Instagram come ho iniziato Andrea tu sei raggiungibile beh innanzitutto sul blog di Efficacemente sì ma di fatto attualmente Efficacemente è presente su tutti i canali nello specifico quello su cui adesso stiamo investendo particolarmente quindi dove c'è gran parte della mia attenzione è il nuovo canale YouTube su cui stiamo sto investendo appunto energie e tempo e stiamo portando avanti un progetto che ha l'obiettivo nei prossimi due anni di raggiungere i 100.000 iscritti e sicuramente Instagram c'è il profilo Instagram di Efficacemente e Efficacemente anche lì condividiamo quotidianamente insomma diversi contenuti poi ci sono i miei profili personali su LinkedIn Andrea Giulio Dori su Facebook sempre Andrea Giulio Dori e naturalmente su Efficacemente sempre Andrea Giulio Dori su Instagram scusate Andrea Giulio Dori Fantastico e visto che parliamo comunque anche di lavoro in questo podcast a volte quando imprenditori dico sempre state assumendo se qualcuno è interessato come può nei tuoi progetti nuovi state assumendo e mi piacerebbe sapere anche il vostro team da quante persone è composto e che tipi di profili state cercando perché magari c'è qualcuno che ascolta e potrebbe essere Certo noi abbiamo un team core ovvero dipendenti che è composto da sette persone dopodiché abbiamo tutta una serie di collaboratori di collaborazioni esterne quindi arriviamo a circa un 11-12 persone che di fatto con cui lavoriamo stabilmente attualmente stiamo cercando di rafforzare la parte di customer service e community management quindi quella è una parte per noi la community è sicuramente l'asset più importante e siamo sempre alla ricerca poi di esperti o comunque di persone in gamba sveglie che desiderano lavorare nell'ambito dell'email marketing funnel in generale copywriting copywriters quindi questi sono un po' i profili che ricerchiamo maggiormente ecco mi auguro che tra qualcuno mai tra gli ascoltatori sia interessato sicuramente la tua è un'azienda unica e veramente dal contenuto dal prodotto ottimo quindi ti ringrazio ancora per essere stato qui grazie a te Lorenzo è stato un piacere buona giornata alla prossima